Buongiorno a tutti ragazzi, benvenuti in questo video questo video è proprio nuovissimo perché è il mio primo video e siamo un gai cioè ora siamo in caccia dovremmo essere in cinque no no, va bene va bene come nome su prima possiamo mettere Follettina negro solo Follettina Follettina che è 9 avanti voglio sapere voglio sapere ci senti? 3.000 persone 8 persone sono in 3.000 9 persone tutte da un tratto vabbè almeno il nome metti play metti play e mette play vedete vedete che bella persone mi ascoltano speriamo che non salga l'impostor sì perché mi piace un po' scoprire non mi piace un po' fare l'impostor sì 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 io vado incontro io vado incontro io vado incontro io vado incontro perché non c'è niente noi segnato non c'è niente c'è niente non c'è niente è il voto caltofe è il suo primo voto caltofe il suo primo voto caltofe allora io siamo un voto caltofe non mi convigge tanto ma prima sono morti due un follettino raga forse era lui caltofe zero impostor rega rega cioè se già prima partita è il primo cosa che lo facciamo cioè proprio siamo dei progamer diciamo così progamer ci guardiamo la pubblicity che meno questo qua prendersi dopo grazie mia siamo in tre follettina si mette bianca ninja si rega entra pure ninja rega entra ninja perché dopo lo so che non è proprio il vero ninja però se già tipo in un minuto ci facciamo se ci finiamo subito la partita io ero la Jay Jay io mi chiamo Jay che nome è Jay io sono io sono supremo c'è Jay ninja negro follettina mamma mam ud che è una pecora me o o honey 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 sì beh cosa fa se prende si mette la corona voglio sapere la corona si mette la corona si mette la corona cioè vedete vedete la corona però la persona che non l'ho visto è follettino posso ne posso davvero molto dubitare io voto follettino guai se vi giardate a votare a supreme perché non lo so io e dai però eva da davanti idiota sarai tu chi idiota sarai tu chi chi sarai io ho trovato follettino né il governo né l'impostor un impostor re aspetta io sono spirito ok mamut ah raga mamut mi vuole killare mamut mi vuole killare ok guai angela angela andiamo qua io sto con Jay, faccio finta di fare questa cosa no 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 Jay aspettami Jay aspettami Jay 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 io seguo ninja raga electrical storage raga io seguo ninja cioè che te è l'unico posto di andare mentre io seguo ninja e ora quando si chiude ok ok mammut è mammut è mammut lo so che è mammut raga mi killa mi killa tantissimo mammut è mammut raga si è detto mammut ma che cavolo fai me fa finta tasca me la fa la fa la finta tasca non c'è da fare quella tasca lo capisci me non c'è da fare la tasca questa tasca mammut ma mammut left the game allora secondo me raga questo qui è il posto più fortunato perché te ci trovi ma non vi diamanti raga ci manca un'altra task da fare dopo navigation download raga dove da navigation navigation è di qua quindi ho prendo questa strada vado a scegli vado di qua ora sono in navigation devo fare questo download in navigation 3 2 1 ho fatto il download di navigation dopo lo faccio qua e download admin 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 non lo trovo ecco l'admin ora task completed dopo che dovevo fare task admin skip card admin io qua cerco sempre di fare l'admin non che ci 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 non mi funziona mai questa cosa di qua vabbè vediamo che tasca dobbiamo fare io tutte le ho fatte le tasche io tutte proprio tutte 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 ma molto è riuscito vieni Jay prende adesso buono a sapersi Jay e allora regà non so chi votare io voto fuori del tiro aspetta che la prima persona vota la prima persona che vota vuol dire che è l'imposto avanti fe negro avanti vota negro avanti il primo che vota è l'imposto è l'imposto non è rosso nooo no oh non è rosso non è rosso nooo però è lui rosso quindi negro sei tu l'impostor e me non è l'impostor me non è l'impostor oh non è l'impostor che ti ho detto un impostor rei manete non è l'impostor non è l'impostor non è l'impostor ma vedi qua e mi sento adesso che figlio di botaniche che figlio di meccanico questo qua cioè io credo che era il rosso no 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 regà regà io ora voglio sapere come che l'ho fatto a chiedere la porta faccio faccio così ha chiuso la porta guarda io regà io quando devo fare le tasche non ce la faccio io ho paura di sapere dove è negro dove è negro no no manco follettina me l'ho dimenticato tantissimo io di follettina non lo possiamo fare dai signori signore dai riportami il corpo vedete poi riportalo orange regà orange orange se lo dico io e io ora si vanno a vettori folletti tu ci vota un orange io ho votato un orange io avrei avrei votato un orange io ci voto un mammut perché dango brutto dango brutto dango brutto dango brutto o è nessuno perché dango brutto mi ha detto lo prendeva e si credeva forte forte non mi seguivo c'è proprio lui deve sentire da soli e lui segue da soli l'ho buttato in schermano io dango brutto dango brutto dango brutto guardate dango brutto è qua proprio qua proprio qua ma perché io c'ho questa parte spaccata vabbè qua perché c'è un buco nero qua c'è un buco nero qua c'è un bucone nero qua c'è un bucone nero c'è raga guardate qua che bucone nero perché l'ho rinchi io riesco a muovere questo mouse ma dopo la cammino cioè certo che i creatori di Among Us sono proprio dai uccidetelo è facile basta che 10 7 6 5 4 3 2 1 1 dango brutto non ho votato tutti hanno votato dango brutto è dango brutto è dango brutto dango brutto dango brutto was the impostor zero impostor remanente facciamo la victoria quando persone hanno vinto due sole uno di quell'altro di qua vabbè io faccio plain cane glose quant'è quanto è 8 jesus 9 jesus siamo in 9 speriamo che non so nero rica io non lo voglio fare proprio l'imposter io non voglio fare l'imposter chi non vuole fare l'imposter alza la mano ho alzato la mano io l'imposter non lo voglio fare non è prima perché a me piace fare il fantasma però vi dico una cosa bella rega non lo voglio fare